La splendida costa del Cilento, da Agropoli a Castellabate, ospiterà dal 3 al 4 settembre la quarta edizione del Raduno Nazionale per Canoe e Kayak da Mare, Benvenuti al Sud, organizzato dalle associazioni trezieni del Mediterraneo Kayak, Love Kayak e Kayak Agropoli, con il patrocino del Comune di Agropoli. L'evento turistico-sportivo vuole ripercorrere in due giorni le rotte degli antichi trezieni, abili navigatori del Peloponneso, che trovarono rifugio nel VI secolo a.C. sul promontorio dell'attuale Tresino, utilizzando poi, quale porto naturale, l'attuale area del Vallone di Agropoli. Durante la due giorni nel Cilento, i Kayak e i radicanoisti, provenienti da ogni angolo dello stivale, pagaglieranno dal porto di Agropoli verso la Baia di Ogliastro Marina, costeggiando l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e visitando i luoghi dove un tempo si stanziò il popolo dei trezieni, da cui deriva anche l'attuale toponimo del promontorio di Tresino. Nell'ambito del raduno sono previste anche delle escursioni a terra, con momenti di incontro e di riflessione e di convivalità, attraverso la degustazione di prodotti tipici locali.